E' stata una giornata molto utile, in questo convegno abbiamo potuto ascoltare le parole di Masiero che ci ha fatto capire che c'è bisogno per rinnovare il sistema anche istituzionale di questa regione, c'è bisogno di una visione, di un sogno, io l'ho chiamato un sogno, il sogno di poter riformare il sistema istituzionale per organizzare i territori in maniera diversa da come oggi li conosciamo, per fare di questi territori, territori di sviluppo, di inclusione, territori competitivi, per fare in modo che non ci sia impoverimento sociale ed economico, è necessario cambiare il sistema e cambiare la governance del sistema. Tutto questo fa parte di un processo di smartizzazione, così è stata definita, cioè rendere intelligenti i territori, non necessariamente dentro contesti cittadini e contesti urbani molto densi, ma anche nei territori come quelli friulani, che sono territori spesso rurali e che hanno bisogno comunque di organizzazione e di politiche che consentano di superare questo momento di difficoltà economica.